Si chiama Gabriella Green Thompson Key, è una giovane ragazza straniera la quale pensate che sarebbe vista molto brutta. Si è vestita infatti di sirena, è andata quindi sott'acqua, e purtroppo sarebbe rimasta impigliata sul fondo di un acquario, sfiorando la immane tragedia. Quando infatti si accorta di questo grave accaduto, ha iniziato a lottare riuscendo a farsi sfilare il costume da addosso. Va bene, l'incidente però è stato terribile e la reazione immediata ha visto sfidare la coda dalle gambe. Le persone che erano intorno a lei stavano assistendo, si stavano votando lo spettacolo, però sono rimaste molto molto spaventate e hanno capito fin da subito che qualcosa era andato storto. Infatti la ragazza, o meglio la pseudosirena, era rimasta impigliata purtroppo. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, fatevi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video, una buona giornata a voi e purtroppo anche questo.